amici buon pomeriggio dal vostro gianfranco quello che vedete qua sopra è uno screen che mi ha mandato il mio amico autista misterioso riguardante le famose procure d'italia guardate che cosa c'è scritto fateci caso per un pandoro stanno indagando tutte le procure d'italia e per le morti improvvisi nessuno si muove no i morti improvvisi di cassose il magistrato non si anzi non dice nulla anzi per il pandoro si invece guardate per un pandoro stanno indagando tutte le procure d'italia ma per i morti improvvisi nessuno si muove e allora che cosa allora che diciamo di francesco carbone che da 30 anni dico 30 anni denuncia mafie pedofilia massoneria spacciatori e violentatori all'interno delle istituzioni e che cosa succede nessuna procura si mobilita ad accogliere le denunce che fa il caro carbone devo per forza dire carbone perché perché se ne storpio il nome se storpio il nome scusate dopo nessuno dice ma chi è questo carbone carbocchio pippone eccetera ma anche se lo dico anche se dico il nome normale tanto nessun coim si dignerebbe di di scoprire chi è questo carbone che cosa sta facendo perciò massimo come direbbe caro dell'erux questo carbone dovrebbe andare a prendere di cittadinanza in tanto il reddito cittadinanza dovrebbe prendere tu anzi non lo non lo prenderai più caro dell'erux perché è la figlia dei rossi della ha tolto tutto il reddito di cittadinanza perciò dove solamente andare a coltivare la terra caro dell'erux vicino a una a una stazione ferroviaria perciò e quindi che cosa è successo ragazzi che che la magistratura si è mobilitata per un pan per un pandoro ma per un bando bandoro fosse avariato avvelenato e guarda casa la procura sono le tutte le procure ideali sono mobilitare per 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 combattere questo fenomeno dei pandori un po' appelenati ma invece invece tutti i morti di cassosi arnone e tutti stupi che hanno subito donne e bambini da parte di criminali pedofili mafiose massoni che hanno commesso in questi anni nessuna procura semmo si è mossa per andare all'estate è normale perché perché mafiosi massoni pedofili e spacciatori ce l'abbiamo nelle nelle istituzioni perciò come diceva il carbone la mafia andrà una volta andava in giro con la copporella e ecco la lupare oggi invece la mafia vanno in giro con la divisa e con la macchina delle forze dell'ordine perciò perciò è l'ennesima prova che qui in italia è uno schifo totale perciò perciò naturalmente ecco questa sabrina f che ha postato questo questo tweet e dice chiediamo spiegazione a questo governo criminale questi burattini criminali e anche quello precedente non indaghi se non indagano perché sono complici perciò perché sappiamo benissimo che in italia ragazzi da quando nel 1989 grazie un golpe politico giudiziario e hanno introdotto il modello 45 dove i magistrati mafiosi e pedofili possono sabotare tranquillamente tutte le denunce di criminali e affiliati alloggio coschi ordine 7 i soggetti criminosi parlo di mafiosi pedofili spacciatori eccetera eccetera non verranno mai condannati perché loro il loro amico magistrato pigli le denunce dei malcapitati e rimette modello 45 e i criminali menzionati da me possono possono andare indisturbati a delinquere senza problemi perciò e prima di chiudere un altro post il caro Bergoglio nomina il cardinale della chiesa e figlio del magnate George Soros Papa Francesco appena nominato Alex Soros 37 anni laureato in storia miliardaria erede di George Soros il re di tutti i pedofili cardinale diacono della chiesa cattolica la notizia è caduta come una bomba nel mondo del pettegolezzo vaticano in cui il pettegolezzo è un terribile scima le scuote le fondamenta stesse dei numerosissimi collegio cardinale cardinalizio perciò perciò a me mi fanno ridere i bimbi minchia quando dicevo eh Gianfranco sei che un pedofilo mi ha molestato io l'ho denunciato cretino se ho detto che in Italia siamo governati da mafia e pedofili chi denunci anche le forze dell'ordine la polizia postale loro sanno tutto sanno tutto dalla zera quelle che ti fanno però la polizia postale si stanno zitti perché altrimenti i loro padroni massoni i pedo mafiosi massoni li fanno un un popò quando è portacapuana e perdono anche il loro posto di lavoro perciò io dico sempre le denunce non servono nulla e non servono neanche le battaglie che sta facendo carbone avete visto in trent'anni nessun magistrato se si è degnato di aprire la porta di aprire la valigia blu di carbone e di accogliere tutte le denunce e avviare i processi contro questi criminali perché loro hanno paura hanno paura che i loro fratelli massonici pedofili li fanno la tubiera perciò ecco perché io dico che purtroppo in italia oramai è un paese fallito dove mafia pedofilia andrine massoni e tante altre schifezze comandano questo paese dal dal lontano 89 e da 2020 hanno già commesso dei veri e propri genocidi di stato punto perciò non aggiungo altro chi ha capito ha capito chi non ha capito pazienza vi attaccate al tram e come dice caro gold greg per tutti quelli che credono ancora nella giustizia e nella nella falsa scienza e nella falsa a tomar por culo grazie